6 destinazioni dove andare ad aprile in vacanza se volete restare in europa quindi non andare troppo lontano ecco sei destinazioni perfette da visitare al numero 1 abbiamo la francia io sono tornata da poco da parigi vi posso dire che il clima era perfetto se volete mare una destinazione medio raggio le canarie in particolare tenerife ma anche lanzarote mi è piaciuto tantissimo in questo periodo ancora spagna ma questa volta nel continente come dicono loro e in particolare possiamo visitare barcellona ma anche madrid che ha un fascino molto particolare e ancora mare al quarto posto vi propongo malta altre due destinazioni il portogallo in particolare lisboa oppure oporto e infine la grecia una nazione che probabilmente visiterò ancora una volta quest'anno ci vediamo nella prossima puntata ciao